Inizia la marcia di avvicinamento verso le amministrative 2017. A Canosa di Puglia l'assessore allo sport e allo spettacolo Elia Marro traccia il bilancio dell'attività svolta finora e conferma il proprio sostegno al sindaco La Salvia. Francesco Rossi. Quasi un anno di sua presenza all'interno dell'amministrazione comunale di Canosa di Puglia. Qual è il bilancio che riesce a tracciare? È un bilancio positivo. Io ho accettato la carica a marzo 2016. Il mio consigliere di riferimento è il dottor Luciano Pio Papagna ma io sono delegato dal sindaco di Canosa di Puglia Ernesto La Salvia. Ho accettato la carica e mi sono messo subito a lavoro per la città non per uno schieramento di centro-destra, centro-sinistra, sopra, sotto ormai non si capisce più niente. Io ho lavorato per la città e ho cercato di fare al massimo tutto il possibile per il bene di questa città. Per le politiche, io ho la delega allo sport e spettacolo per le politiche dello sport il 31 gennaio abbiamo approvato su mia proposta di Consiglio Comunale il nuovo regolamento degli impianti sportivi. Casualmente il regolamento è stato votato sia dalla maggioranza che dall'opposizione perché era un regolamento propositivo alla città. Questo regolamento era stato già approvato da questa amministrazione nel 2014 con i soli voti della maggioranza. Quindi il mio ruolo istituzionale è quello di Superpartis e di lavorare per la città. A me non interessano le varie posizioni, ci stiamo avviando verso la campagna elettorale. Naturalmente i vari schieramenti, centro-destra, centro-sinistra, centro, stanno facendo tutte le loro valutazioni. A me non interessa parlare con un segretario di destra e di sinistra. Io lavoro per la città. Fino a quando sarò assessore lavorerò per la città. Ho scritto personalmente una lettera al sindaco Ernesto Lasalvia che entro stasera le darò di persona per sottolineare alcuni punti che mi riguardano.